Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi Benvenuti nel video speciale per Halloween Quest'anno non volevo fare qualcosa, un roleplay particolare, il solito strega, zombie eccetera E diciamo che mi è venuta un'idea in particolare ispirata a ciò che veramente mi piace E diciamo mi appassiona, mi crea perché altro curiosità e mi affascina E cioè il True Crime Dovete sapere infatti che io ascolto tantissimi podcast di True Crime Cerca una storia al giorno praticamente E seguo anche veramente volentieri il guy di Big Skoven di Marta Che è veramente bravissima in ciò che fa ed è bravissima E adesso noto anche quanto tempo, veramente quanto impegno c'è dietro a un suo video Quindi oggi andrò a raccontarvi la storia di una persona che ha tolto la vita a 37 persone presunte Solo 5 sono accertate, ma si pensa veramente che sia reale a 37 persone Ovviamente in questo video ve lo premetto già Ci saranno molti tagli improvvisi di parole, molte censure Perché Youtube è molto stringente in questa cosa E quindi ovviamente oggi parleremo di un serial Chi? E dirò così Chi? Ma si può dirvi ogni serial Chi? Premessa numero 2 Se queste storie vi fanno impressione Vi mettono troppo ansia Per me è proprio normale ascoltarle Però se qualcuno di voi pensa di non reggere queste storie e in qualunque modo che possa nuotere la salute mentre di qualcuno stoppate questo video chiedetelo assolutamente non voglio farle male a nessuno e anche se siete troppo piccoli evitate questo video ovviamente questa storia è raccontata nel pieno rispetto delle vittime anzi per ricordarle visto che vabbè non vi faccio spoiler quindi cominciamo subito con il video io è la prima volta che faccio questo tipo di video quindi spero di essere in grado e mettete mi piace se questo video appunto vi sarà di vostro gradimento e magari potrebbe essere un format che ogni tantissimo ogni tre mesi magari potrei riportare ho visto che all'estero hanno portato questo format e mi piace quindi vedremo insomma cominciamo subito la storia che vi voglio raccontare oggi è degli dello zodiaco o come si definisce lui zodiac tutto parte il 4 giugno 1963 siamo nella contea di Santa Barbara California e gli studenti Robert Domingos 18 anni e Linda Edwards 17 decidono di saltare la scuola quel giorno e di passare una bella giornata in coppia sulla spiaggia passa la giornata arriva la sera e il padre di Robert non lo viene a tornare a casa quindi preoccupato comincia a cercare in giro in giro in giro e si allontana a meno alla spiaggia e trova i corpi dietro una baracca con le mani legate e palese che abbiano cercato di fuggire ma senza riuscirci e sono stati freddati da 11 colpi lui in 9 colpi lei di pistola gli investigatori per questo caso non hanno assolutamente piste da seguire non sanno cosa pensare e cominceranno a capirci qualcosa di questo caso addirittura 11 anni dopo ma facciamo un salto avanti di 5 anni siamo al 20 dicembre 1968 vicino a Natale e una giovane coppia Betty Lou Jensen e David Faraday è al loro primo appuntamento e decide che sarebbe carino insomma per questo caso non andare a sentire un concerto di Natale però poi cambiano idea fanno trovare un amico e poi fanno una cena al ristorante dopo la serata per un momento di intimità per stare un po' insieme da soli si appartano nella piazzola di Laker Man Road verso le 11 sempre in quell'orario un'altra macchina accosta alla loro in tutto furono 6 colpi David venne colpito una volta e Betty nonostante lo sciocco prova a fuggire apri la portiera ma venne colpito da 5 colpi sulla schiena l'unico testimone era un signore che stava passando è passato lì con l'auto e ha visto due auto accanto non vedendo però all'interno e dice di aver sentito dei suoni che gli ricordavano gli spari però non era sicuro perché aveva l'autorario accesa e quindi non è successo niente è andato avanti poco dopo verranno appunto ritrovati i corpi e anche qui le indagini cominciano ma veramente non si sa a cosa appendersi non si ha nulla e la polizia è ancora nel buio purtroppo appunto per questa coppia non c'è giustizia non c'è un colpevole non c'è un sospettato non c'è nulla 4 luglio 1969 è il 4 luglio festa nazionale degli Stati Uniti e un'altra giovane coppia Darlene Ferrin 22 anni e Michael Mugot 19 suo amante sono in macchina per godersi questo spettacolo quando un'altra auto si accosta alla loro ma poco dopo se ne va dopo 10 minuti l'auto torna e dice fuori un uomo che punta la torcia addosso ai ragazzi a te gli abbassa il finestrino perché pensa sia un poliziotto gli spara al volto al collo al torace con una 9 mm Adarlene invece riserva un solo colpo che però basterà per farla morire soffocata nel proprio sangue Michael incredibilmente sopravvisse e alla polizia raccontò che l'uomo che gli ha sparato era sulla trentina bianco e alla guida di una Chevrolet quelle indagini partono e prima sospettano del marito di Darlene per una vendetta perché lei lo tradiva con sua amante però poi viene scagionato subito e di nuovo la polizia branco nel buio non ha vie non sa dove guardare non sa dove cercare e anche questo caso rimane lì senza un colpevole è la calda mattina del primo agosto 1969 e la segretaria del San Francisco Cronica in un giornale appunto di San Francisco corre velocissima e molto preoccupata verso la stanza apre la porta e interrompe la prima riunione del giorno con in mano una lettera questa lettera è una delle tre lettere che Zodiac come si firma ha mandato a tre testate giornalistiche di San Francisco in questa lettera lui si prende la responsabilità per questi due omicidi e inoltre a lei con criptogramma una parte del criptogramma e le altre due parti saranno le altre due lettere questo criptogramma ha 408 lettere in questa lettera Zodiac dice che il criptogramma avrebbe svelato la sua identità e diceva anche che se non avessero pubblicato questa lettera e questo criptogramma sulla prima pagina del giornale lo avrebbe sparato una tosina di persone quel weekend quindi ovviamente viene pubblicato e una settimana dopo una coppia di lettori riesce a risolvere il criptogramma 408 lettere tranne le ultime 18 purtroppo questo criptogramma è veramente una presa in giro per la polizia ed è nota anche la follia e l'ego smisurato di questa persona di questo pazzo infatti ciò che la lettera dice e ve la lascio qui se la volete leggere in inglese originale dice che lui ama uccidere è divertente molto più divertente che farlo con gli animali nella foresta dice che l'uomo è l'animale più pericoloso e dice anche ed è la cosa più inquietante più folle di tutti e più fuori dal mondo dice anche che quando lui morirà e andrà in paradiso tutte le persone che ha ucciso diventeranno sui schiavi e poi appunto rimangono queste 18 lettere che non sono mai state decodificate può darsi quelle 18 lettere effettivamente fossero la sua firma ma chissà se lo sapremo mai arriviamo dunque al 27 settembre 1969 Brian nel 20 anni decide che sarebbe una cosa carina romantica provare a conquistare Cecilia Shepard da 22 anni facendo un picnic sulle rive del lago Peries purtroppo Brian e Cecilia non sanno che quel pomeriggio non sono soli e verso sera quando loro sono accoccolati in una coperta godersi la prezza della sera arriva un uomo questo ma vestito da boia tutto nero col cappuccio e con un simbolo un cerchio attraversato da una croce questo è il simbolo di Zodia che è il simbolo con cui si è firmato anche nelle sue lettere quest'uomo si finge un evaso dal carcere dice di aver bisogno di soldi dell'auto degli clavi dell'auto di Brian obbliga Brian a legare Cecilia e lui si occupa di legare Brian Brian cerca di parlargli purtroppo sono 75 centesimi nelle tasche però dice gli tagli il suo nome che lo aiuterà gli troverà altri soldi ma lo prega non farci del male lasciaci andare purtroppo Zodiac estrae un coltello e li pugnala ripetutamente a trovarli saranno padre e figlio due escursionisti che vedranno la magra scena li trovano vivi ma con i zanti la polizia corsa sulla scena nota una cosa la macchina di Brian ha qualcosa inciso ha un simbolo un cerchio attraversato una croce e tre date 20 dicembre 1968 4 luglio 1969 e la data di quel giorno 27 settembre 1969 con una scritta un'aggiunta by knife col coltello quindi Zodiac vuole far capire questo non è una cosa isolata che lui ha fatto tutte queste cose che lui è riuscito a fare tutte queste cose e nessuno ha sospettato di lui Cecilia purtroppo non ce la fa muore in ambulanza ma Brian sopravvive e se volete c'è anche un video su youtube in cui c'è un'intervista questo ragazzo e spiega tutta la conversazione ed è veramente interessante alle 19.40 squille il telefono nell'ufficio dello sceriffo della contea di Napa è Zodiac che rivendica questo omicidio purtroppo le indagini veramente non hanno nulla hanno poco e niente perché con Brian l'uomo era incappucciato era vestito da boia non hanno visto niente e Michael invece aveva la torcia puntata contro quindi anche lui ha potuto dire poco e niente l'ultimo omicidio accertato sicuro di Zodiac è di un tassista il 29enne Paul Steen questo tassista ha la sfortuna di dare un passaggio appunto a San Francisco a Zodiac e lo uccide con un colpo di pistola l'11 ottobre 1969 questa scena verrà vista da tre ragazzi da una finestra e questi ragazzi chiamano subito la polizia Zodiac alla polizia le calcagna e non si sa se per pregiudizio quegli anni erano veramente molto caratterizzati dal razzismo o per un errore semplice purtroppo la polizia viene detto che quell'uomo era di colore e non bianco dopo in una lettera che Zodiac invierà alle testate giornalistiche rivelerà che quella sera è stato fermato da due poliziotti che le hanno chiesto mi scusi ha visto una persona scappare e ha detto sì certo dietro quella casa e poi si è andato tranquillamente il poliziatone ha detto che era una persona dall'aspetto normale con degli occhiali pesanti sul volto e Zodiac prende in giro questi due poliziotti prende in giro la polizia perché non ha tanto così dal prenderlo l'hanno visto davanti e non l'hanno fermato questa cosa è molto inquietante pensarci è molto importante perché avranno dato veramente giustizia a queste persone e magari avranno salvato la vita anche ad altre persone che ha ucciso dopo Zodiac continua a mandare le lettere ed è molto compiaciuto quando esce una puntata di una serie tv ispirata al suo lavoro manda lettere dicendo che è molto contento però non capisce perché la gente non esca di casa con il suo simbolo sul petto dovete capire che quest'uomo era affamato di fama di essere riconosciuto di essere ammirato il 14 ottobre Zodiac invia un lembo della camicia del tassista per far capire che era proprio lui il responsabile inoltre ha detto che quando i poliziotti l'avevano fermato lui sotto la giacca aveva questo lembo della camicia insanguinata l'8 novembre 1969 invierà un altro criptogramma che purtroppo non è mai stato decodificato nel 1974 Zodiac sparisce non invia più lettere nulla di nulla nel 2004 il caso viene chiuso ma nel 2007 viene riaperto ed è tuttora attivo dopo 5 vittime certe 37 presunti più di 2500 indonati non si sa ancora chi è il colpevole però la domanda è dopo il 1974 che fine ha fatto Zodiac perché non ha fatto più niente perché non ha scritto più lettere è molto strano per una persona con un carattere degli anni le opzioni sono due o è morto o è riuscito a trattenere questo istinto omicida ma c'è una terza opzione una teoria molto inquietante la terza opzione è che non abbia né smesso di uccidere né sia morto ma che si è trasferito in Italia in Toscana e sia diventato il mostro di Firenze io vi auguro una buona serata e buon Halloween e buon Grazie a tutti.